Un 56enne è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Camerota perché trovato in possesso di file pedopornografici all'interno del suo smartphone. La misura cautelare, disposta dal Tribunale di Napoli, è scaturita da un'indagine avviata dalla Polizia Postale per Pedopornografia. L'uomo, stando a quanto emerso dalle indagini, era stato denunciato la scorsa estate da una ragazza che aveva segnalato di essere stata importunata sui social network. Gli inquirenti hanno appurato che il 56enne si sarebbe collegato alla rete internet tramite il wifi di una struttura ricettiva presso la quale lavorava e da lì avrebbe scaricato delle immagini ritraenti diversi minori.